40 anni di premio, che valore ha raggiunto e che importanza ha per il Friuli Venezia Giulia? Il 40 anni è un'età meravigliosa, un'età dove hai la forza, hai la capacità di guardare lontano, di guidare i processi e nello stesso tempo hai ancora il grande entusiasmo. Il premio in questo momento è questo, un grande biglietto da visita ovviamente per il Friuli Venezia Giulia, una grande capacità di vincolare processi e soprattutto idee e questo è fondamentale e lo vediamo qui oggi, sappiamo che per fare impresa bisogna avere le gambe, i piedi ben piantati in un tessuto culturale straordinario, altrimenti non si fa buona impresa e questo mi pare il grande significato di questo premio e dei 40 anni di questo premio. Il premio valorizza anche la civiltà contadina, l'importanza dell'agricoltura che negli anni forse si è perso ma che invece va valorizzato? Si è perso purtroppo, dobbiamo dirlo e ricordiamoci sempre cos'è l'agricoltura, è il settore primario, senza quello non si riesce ad avere visione più che economia, visione, capacità di far progredire una comunità, una civiltà, dobbiamo tornare lì, dobbiamo capire che tutti i processi, anche quelli manifatturieri, anche quelli sociali partono dal primario, se riscopriamo il primario e se riusciamo a guardare con gli occhi del primario avremo sicuramente futuro e potremo nuovamente sognare con gli occhi di chi può fare qualcosa.